Ma rispondo molto brevemente per dire che sulla prima io non sono assolutamente d'accordo sulla sua risposta alla questione, nel senso che la candidatura di Berlusconi è lì ed è molto seria, io ho notizie di parlamentari anche iscritti al nostro gruppo parlamentare che hanno ricevuto una telefonata di Berlusconi in questi giorni. Non ha notizia della risposta che gli hanno dato. Ci hanno risposto? Hanno risposto al telefono. Sono persone lugate. Esattamente, siamo gentili noi come è noto. Però ecco, quello che voglio dire è che non mi sembra che sia una vicenda che si sia chiusa e soprattutto non è una vicenda chiusa. Ma il tema è cosa votano i parlamentari di centotesto, non cosa rispondono i parlamentari del Berlusconi. Capito, questo però lo sono d'accordo, ma questo lo vedremo quando si andrà al voto, però quello che è certo è che non decolla questo negoziato finché c'è questa vicenda sul tavolo e soprattutto finché Salvini e Meloni rimangono fermi a 15 anni fa. Perché tutta questa legislatura, Salvini e Meloni hanno fatto come se Berlusconi non ci fosse, improvvisamente finisce la legislatura e tornano sotto Berlusconi. Francamente la trovo una cosa incomprensibile. A proposito, i migliori mondi possibili, Berlusconi che lascia Salvini e Meloni andare alla deriva e il PD che si mette con Forza Italia e il 5 Stelle, quello sì che è una maggioranza Ursula, vero? Mi sembra molto improbabile, ma guardi mi sembra molto improbabile anche per un motivo molto semplice. Stiamo vivendo una fase della vita del paese complicata. Tutta la vicenda dei vaccini, la vicenda della reazione, la vicenda di come gestire questa fase, mi fa pensare e dire che sia molto più utile che la fine della legislatura sia gestita da una maggioranza larga, piuttosto che da una maggioranza che deve in Parlamento andare 5 voti su 5 voti. Rimane la risposta di Schrein.